buongiorno ragazzi buongiorno e bentornati in questo nuovo video come avete letto dal titolo oggi vi farò vedere cinque ricette ideali per la colazione di tutta la settimana sono soprattutto sane gustose ma anche velocissime da poter fare tutti i giorni indipendentemente dai vostri impegni inoltre la particolarità di queste ricette che hanno tutte e cinque più o meno gli stessi ingredienti questo vi permetterà di fare un'unica spesa di non dover comprare 10 mila robe per fare 10 colazioni diverse ma con gli stessi ingredienti potrete dar vita a 5 ricette che potrete usufruire anche tutta la settimana per poter cambiare tutti i giorni la vostra colazione iniziamo subito con la prima ma prima sigla la prima ricetta che vi mostro è una torta caprese alla zucca è molto comoda perché potete prepararla per esempio la domenica pomeriggio e usarla per le vostre colazioni ma anche per le vostre merende dopo scuola da portare magari in ufficio oppure per concedervi una coccola nel pomeriggio per tutta la settimana o almeno per 3-4 giorni non di più conservandola ovviamente in frigo gli ingredienti per questa colazione saranno 50 grammi di zucchero di stevia è un edulcorante senza calorie che ha un leggero profumo di liquirizia ma tranquilli che nella torta non si sentirà assolutamente poi abbiamo 40 grammi tra frutta secca e cioccolato fondente mezza bustina di lievito per dolci vanigliato o naturale due cucchiai di sciroppo d'agave o miele o sciroppo d'acero 100 ml di albumi che corrisponde a tre albumi più due uova intere un cucchiaio abbondante facciamo circa 30 grammi di burro di frutta secca io in questo caso ho utilizzato il burro di anacardi che è più delicato e non impone troppo il suo sapore all'interno della torta ma voi potete tranquillamente utilizzare il burro di mandorle o il burro d'arachidi ovviamente 90 grammi di farina d'avena ultimo ma non per importanza 500 grammi di polpa di zucca questa è una zucca che io avevo cotto il giorno prima direttamente in forno tutta intera ne ho utilizzato un po per la cena e quella che mi è rimasta l'ho utilizzata appunto per la torta la prima cosa che andiamo a fare è trasferire la polpa di zucca in una recipiente e mixarla fino a farla diventare una purea successivamente aggiungiamo le uova una alla volta mescolando fino a rendere il composto omogeneo aggiungiamo poi i tre albumi oppure 100 ml di albumi se prendete il brick solo albumi mescoliamo per bene aggiungiamo anche la stevia quindi lo zucchero il nostro dolcificante principale mescoliamo tutto fino ad ottenere sempre un composto ben omogeneo aggiungiamo anche i due cucchiai di sciroppo d'agave o miele o sciroppo d'acero e poi setacciando la farina insieme al lievito la aggiungiamo al composto mescolando sempre dall'alto verso il basso con una frusta o con una marisa come sto usando adesso fino appunto ad ottenere sempre un composto omogeneo e senza grumi l'ultimo ma non per importanza aggiungiamo anche il cucchiaio di burro di frutta secca per amalgamarlo se scegliete un trasferiamo il tutto in uno stampo per torta con la cerniera foderato di carta forno se volete potete foderare anche i lati ma non è assolutamente necessario a questo punto tagliuzziamo con un coltello la frutta secca e il cioccolato fondente se volete potete usare anche le gocce di cioccolato e le mettiamo sopra inforniamo a 180 gradi per circa 35 minuti tenete sempre comunque sotto occhio la cottura attraverso uno stecchino quando lo mette dall'interno non deve risultare troppo umido anche se ricordatevi che è una caprese quindi un pochettino rimarrà umida all'interno il risultato però non ve lo faccio vedere subito ve lo faccio vedere alla fine del video perché assaggeremo in diretta la torta la seconda ricetta è una tra le più veloci che vi propongo oggi infatti ci serviranno pochissimi ingredienti abbiamo delle fette di pane integrale in questo caso una sorta di pan bauletto ma potete utilizzare qualsiasi pane che più vi piace del quark magro oppure dello yogurt greco deve essere comunque uno yogurt termo e solido non troppo liquido del miele o anche qui dello sciroppo d'agave o sciroppo d'acero della canella e della frutta secca io ho scelto le noci il procedimento sarà molto semplice andiamo semplicemente a tostare il pane in padella oppure in un tostapane aggiungiamo poi il quark magro direttamente sulle fette di pane ancora calde cospargiamo di miele o di sciroppo d'agave un po di cannella un po di frutta secca e la colazione è servita come avete visto super veloce ma completa perché ci sono i carboidrati gli zuccheri del miele che comunque la mattina servono per avere energia abbiamo le proteine del quark abbiamo la cannella che riduce anche l'impatto glicemico che gli alimenti hanno nel nostro corpo e ovviamente i grassi con la frutta secca provatela e poi mi direte la terza ricetta che vi propongo invece è la più semplice e la più veloce da fare perché si prepara la sera prima ed è una sorta di overnight oax anche se oggi non lo facciamo con i fiocchi di avena ma con dei cereali che sono un mix di occhi di soia e di farro soffiato ma voi potete utilizzare anche dei semplici fiocchi di avena sempre magari con dei fiocchi di soia che apportano un po di proteine abbiamo del latte scremato in questo caso oppure delle bevande vegetali abbiamo del dolcificante alla vaniglia un po di frutti rossi e della cannella semplicemente andiamo a mettere tutti gli ingredienti in una piccola ciotolina in questo caso è una ciotolina con coperchio ma va benissimo anche un bicchiere da ricoprire con una pellicola mettiamo tutti gli ingredienti mescoliamo un po e questo finisce direttamente in frigo per tutta la notte pronto per essere mangiato la mattina dopo per la quarta ricetta vi propongo un porridge super caldo che in questo periodo quando il freddo comincia davvero a farsi sentire è davvero ottimo per riscaldarsi la mattina ma per un paio di clip ma semplicemente ho messo dei fiocchi d'avena in un pentolino con dell'acqua sono circa 50 g di fiocchi d'avena con 100 ml di acqua metto tutto sul fuoco moderato e mescolo finché non si rapprenderà un pochettino l'avena in questo caso aggiungo poi 100 ml di albume che mi apporterà appunto le proteine che servono anche la mattina mi raccomando sono molto importanti e come piccolo tocco aggiungo 100 g di polpa di zucca torna qui la nostra polpa che potete decidere di ridurre in purea per evitare che ci siano pezzettoni oppure se come me vi piace anche mordere e mordicchiare la zucca potete lasciarla direttamente intera tanto mescolando si scioglierà un po e alcuni pezzi rimarranno più grossolani faccio cuocere il tutto vedrete per circa cinque minuti in totale quindi anche questa è velocissima come ricetta e poi la vado a decorare semplicemente con del miele o anche qui con dello sciroppo d'acero con dei frutti rossi e un po di cannella anche in questo caso se rifate la ricetta a casa taggatemi su instagram che riposto la vostra storia l'ultima ricetta che vi propongo è per il team salato quindi salato anche a colazione è una classica ma molto gustosa e veloce omelette io la faccio semplicemente con un uovo intero e 100 ml di album a cui aggiungo un pochettino di sale mescolo il tutto e la metto in una pentola leggermente unta con un po di olio ben calda a questo punto quando inizia a rapprendersi un po il fondo dell'uovo con un piccolo gesto io sollevo le parti laterali della frittata e faccio scivolare sotto l'uovo liquido che è rimasto sopra faccio questo più o meno da tutti e quattro i lati a questo punto quando l'uovo è quasi cotto del tutto aggiungo le fette di tacchino se volete potete aggiungere anche un po di formaggio un po di parmigiano chiudo semplicemente l'omelette faccio tostare una fetta di pane di segale e la colazione è pronta super veloce super proteica anche per i palati più salati e ora è arrivato il momento di assaggiare la torta caprese alla zucca come vedete molto bassa quindi non ha lievitato tantissimo un po come la torta caprese e anche un po umida all'interno come la torta caprese se la tenete in frigo e la consumate nei giorni successivi vi consiglio di tagliare una fetta e di riscaldarla proprio 20 secondi nel forno a microonde per togliere l'effetto freddo del frigo e poi secondo me calda si scioglie ancora di più il cioccolato verrà buonissima ora assaggiamo la vuoi anche tu amore? no tu non la puoi mangiare questa la particolarità di questa torta è che appunto è molto morbida all'interno no ma avendo aggiunto anche la frutta secca e il cioccolato in superficie danno quel lato croccante davvero davvero particolare vi consiglio di provarla secondo me questa colazione presa così e inzuppata nel cappuccino sarà buonissima con questo vi ringrazio per aver visto questo video mi raccomando ci tengo tantissimo se rifate le mie ricette a casa fate una storia taggatemi su instagram perché verrete ripostati lasciate like ovviamente al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale perché ancora manca metà mese di my fitness challenge quindi ci saranno ancora tantissimi nuovi contenuti io vi mando un grosso bacio intanto mi finisco la torta ciao ciao com'è ci piace ci piace